Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Abbiamo il piacere di avere in studio il Sindaco di Alano di Piave, Amalia Serenella Bogana, che saluto e ringrazio. Grazie, saluti a voi. Grazie per essere qui con noi Sindaco per fare il punto sulle recenti attività che riguardano la vita del suo Paese e la sua comunità. Partiamo da una grande partita che riguarda tutto il sistema Paese, il sistema Italia, ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché di recente avete vinto un nuovo importante finanziamento. Sì, in maniera inaspettata ma sempre stati ottimisti, perché grazie appunto alla collaborazione degli uffici e di personale che ci ha aiutato a creare questo progetto, sapevamo di aver fatto un progetto comunque importante e anche ben strutturato. per cui siamo stati ripagati proprio di tutto un lavoro che è stato un lavoro importantissimo. Pensiamo solo agli uffici nel creare tutte le convenzioni di partenariato e tutte le delibere. È stato un lavoraccio, però alla fine siamo stati premiati. È un progetto su cui puntiamo molto, nel senso che crea quelle opportunità per fare quel salto di qualità di un comune che è inserito in una valle. Devi arrivarci apposta per cui noi adesso con questo bando creeremo proprio le condizioni per essere più attrattivi. Di che cosa si tratta in particolare? Sostanzialmente riflette un po' quella che è la filosofia del PNR, per cui una valorizzazione storico-naturalistica ma anche educativa e la filosofia green che riguarda poi la riqualificazione energetica di due edifici che ne avevano bisogno, uno è Villa Cinespa e uno è il Museo di Campo. Per quanto riguarda poi le diverse progettazioni di valorizzazione verranno creati dei nuovi percorsi ciclopedonali che toccheranno un po' tutte le peculiarità del nostro territorio. Verrà dato ampio risalto a quello che già abbiamo, che non è poco, e abbiamo un grosso progetto rivolto anche ai giovani proprio per farli crescere la fascia, diciamo, fine media, scuola secondaria e superiori, proprio per intercettare questi giovani che comincino poi a creare dei gruppi che possano valorizzare ancora di più le persone e il territorio. Quindi far vivere quel paese. Vivere, vivere, sì. Questo è un primo step da un milione e sei, se ricordo. Un milione e sei, sì. Ci sarà però la possibilità di un proseguo. E' molto interessante poi il secondo bando che uscirà proprio in questo caso per Alano che è stato assegnatario di questo bando PNR proprio per le attività che fanno turismo, agricoltura, artigianato. Ecco, tutte le attività ci sarà un bando apposito che creerà sviluppo anche per queste aziende. È chiaro che in un progetto grosso così che dovrebbe cambiare e creare condizioni di sostenibilità bisogna che si lavori poi tutti assieme. Fortunatamente noi abbiamo le associazioni del territorio che hanno collaborato proprio con accordi di partenariato e anche con delle progettualità e questo ci fa ben sperare proprio anche in un cambio di mentalità e soprattutto anche per le condizioni vantaggiose che può offrire in termini anche di lavoro. Ecco, quindi si vuole creare un circolo virtuoso, diciamo. Sì, sì, sì. Questa è l'occasione. Ecco, non dobbiamo lasciarcela sfuggire. Cambiamo argomento, Sindaco. Ovviamente nel Paese gli occhi della popolazione sono attirati dalla casa del Comune, e quindi il municipio che è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione. Ecco, assieme a questo grosso finanziamento di un milione e sei, che è il più grosso e importante finanziamento che Alano ha avuto, la riqualificazione del municipio è stato il secondo ricordo importante contributo, parliamo di quasi 800 mila euro. Siamo arrivati ai lavori nel corpo centrale, per cui sono stati spostati degli uffici nei locali del corpo già ristrutturato, ci sarà da portare un po' pazienza, però poi noi alla fine avremo la nostra casa, finalmente sistemata dal punto di vista sismico, energetico, ma anche con l'abbattimento delle barriere, pensiamo solo all'installazione dell'ascensore perché vediamo che la popolazione adesso ha difficoltà a salire le scale. Ci sarà anche una riorganizzazione per quanto riguarda gli uffici, proprio la dislocazione fisica, in vista poi anche di una ristrutturazione più generale degli uffici con la fusione. Ecco, questo è lo sguardo diciamo di ampio respiro, si guarda a quella direzione. Sì, noi guardiamo a quella direzione sempre più convintamente, abbiamo incaricato la ditta per una revisione di quello studio di fattibilità che era già stato fatto, sono cambiate delle condizioni e ottimisticamente noi pensiamo verso l'autunno di cominciare ad incontrare gli imprenditori, i diversi stakeholder che noi abbiamo sul territorio proprio per presentare le opportunità che dal nostro punto di vista offre la fusione. Le difficoltà dei comuni per quanto riguarda proprio la parte corrente diciamo è sotto gli occhi di tutti. proprio l'altro giorno parlando con un giovane gli dicevo che era un po' contrario a questa fusione e proprio con ramarico e con dolore e con dispiacere gli ho detto ma lo sai quanti anni sono che noi non diamo un contributo alle associazioni e al territorio? proprio perché abbiamo un bilancio blindato, non abbiamo entrate extra se non quelle derivanti dalla tassazione, da quel fondo di solidarietà dello Stato e non ci permette proprio di sviluppare tutte quelle progettualità se non a grossa fatica e rinunciando ad altro che vadano poi a sostegno dei servizi alla popolazione. Certo, in più in questo momento storico tra l'altro dove si parla di inflazione, di rincari, di costi alle stelle appunto. Sì, noi vogliamo comunque mantenere certi servizi, pensiamo solo al fatto che il trasporto scolastico è gratuito per i nostri ragazzi con un grosso impegno finanziario però noi lo facciamo proprio per dare più respiro alle famiglie che diversamente dovrebbero accollarsi anche a questa spesa. In vari comuni della provincia si stanno facendo anche delle scelte dal punto di vista dell'illuminazione magari per avere dei risparmi nell'ambito notturno. Il comune di Alano in questo caso? Noi abbiamo fatto, noi purtroppo andiamo male ad intervenire anche, abbiamo un impianto vecchissimo che ci ha sempre creato problemi con una organizzazione diciamo dell'illuminazione molto difficile anche da gestire per cui abbiamo spento dei punti luce, qualche risparmio l'abbiamo avuto e bisognerebbe intercettare un finanziamento che ci permettesse di rifare con le caratteristiche di economicità dei nuovi impianti tutto l'impianto. Ecco questo è uno dei prossimi obiettivi. Obiettivi, certo. Guardando invece ai giovani, anche qui interventi per esempio per la scuola dell'infanzia. Sì, all'interno vogliamo anche accelerare per quanto possibile proprio le progettualità di questo finanziamento proprio per garantire ai nostri bambini uno spazio adeguato. Adesso sono un po' sacrificati, lo ammettiamo, però con questo finanziamento riusciremo proprio a sistemare tutta la parte esterna con la creazione anche di un parco giochi che durante l'orario scolastico sarà a disposizione dei bambini dell'asilo. Poi lo apriremo anche dopo la chiusura della scuola dell'infanzia alla popolazione, su una zona verde adiacente alla struttura. Ecco, per quanto riguarda il trend delle nascite, com'è all'Ano? Ma siamo negli ultimi anni, proprio abbiamo fatto un'analisi proprio in previsione delle iscrizioni anche scolastiche siamo in netta flessione, però negli ultimi anni abbiamo visto che siamo sugli stessi numeri uno più, uno meno, però sì. Questo è il grande problema comunque che riguarda... Questo è il grandissimo problema che non è solo di Alano, ma lo è di tutta la provincia se pensiamo che perdiamo mille persone all'anno, se non di più, ecco, come dicevo a suo tempo è la luce, un intero paese che si spegne, una luce della provincia che si spegne. E ovviamente diciamo ecco, nel suo ruolo anche di consigliere provinciale sa bene tutto quanto viene messo a punto. Eh sì, le dinamiche, sì sì, ma è così, è così. Questo è il grande nodo. Senta, parlando di turismo, una parte significativa la ricoprono anche le malghe e di recente avete avuto una particolare festa. Sì, abbiamo avuto, dopo due anni finalmente, e devo ringraziare il vice sindaco Angelo Zancaner e tutta la struttura, dagli alpini ai nostri dipendenti, a tutti i gestori delle malghe per la buona riuscita. Oltre 350 persone che hanno apprezzato moltissimo la bellezza delle nostre montagne e soprattutto anche l'accoglienza che hanno fatto. Dobbiamo proprio dire un grazie a queste associazioni che gratuitamente si mettono a disposizione per la buona riuscita e per la promozione, perché è anche promozione del nostro territorio. E salvaguardia, tra l'altro, con l'ambito delle malghe. Il prossimo 4 settembre la provincia di Belluno celebrerà un momento molto importante che è quella della beatificazione di Don Albino Luciani, il nostro Papa Luciani. Però il territorio di Alano è balzato alle cronache, così a livello nazionale, anche per un'altra beata, prossima beata. Sì, Suor Maria Panas, che è nativa di Alano, però di fatto è andata via da Alano molto piccola. Mi sono messa in contatto col comune di Fabriano, che è il comune dove è deceduta e dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Si è insediata lunedì la nuova amministrazione, per cui avevo già preso contatto in accordo anche con la parrocchia e col nostro parrocco Don Francesco, per capire come si stanno muovendo. Gli uffici chiaramente mi hanno detto abbia un attimo di pazienza che si insedi l'amministrazione nuova, per cui in settimana prenderò contatti con l'assessore o col sindaco, per capire come intendono procedere, perché anche i parenti di Valdobiadene, perché poi da parte materna ci sono ancora dei parenti, delle cugine, mi hanno espresso il desiderio di comunque essere presenti ad un momento significativo come questo. Certo, è che comunque la notizia, adesso vedremo quale sarà la data, però la notizia ha creato fin da subito, diciamo così, curiosità anche in paese. Ebbè sì, avere un santo in paese, ecco, nativo del paese, è comunque motivo di orgoglio e si aggiunge a tutti gli altri personaggi illustri, diciamo così, che hanno dato i Natali, a cui Alano ha dato i Natali. Allora, sull'onda, diciamo, di questa ultima notizia, di questa bella notizia, noi ci salutiamo, sindaco, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.